Musica Allora Sabrina dove cacchio ti trovi e qui abbiamo non uno ma ben due gente da sgranocchiare Vieni qua tu? Ecco fatto grazie Sanjay McRoy Ah ah certo certo intanto sei stato mangiato bravo E qua sotto abbiamo anche lui E ora me lo mangio Lancia granate? No fucile Perfetto Nascosto dai palazzi abbandonati La tattica fallout funziona sempre Eccomi qua Sabrina dove sei? Oh 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 fermo fermo Kaboom Distrutti tutti con due granate bravissimo Ehi la Eccola qui Ce ne ha messo ad arrivare Ringrazio che sono qui Ehi lei mi è debitore Lei vuole qualcosa da me Di che si tratta eh? Protezione Una via di fuga da questo buco del cazzo Ho informazioni su un'operazione della Blackwatch Roba che scotta Deve cercare il comandante Cantrell Roba interessante vedo Torni alla Blackwatch e cerchi di saperne di più Cosa? Sono quasi morta per saperlo Chiedermi di tornare indietro È un suicidio Non sono cazzi miei Sono arrabbiata Sono un chihuahua Bau bau L'ultima risorsa Maco 33 Qui comandante Cantrell Richiedo mezzi corazzati e aggiuntivi alla base India 7-9 Ahà Arrivano subito Certo Puoi chiudere tutte le porte e spegnere tutte le luci Cantrell Ma non puoi proteggere quei piani in eterno Non puoi proteggere nulla da me Se proprio Questa base è isolata Pare che Cantrell non andrà da nessuna parte Lei è un soldato giusto? Sa come si fa a interrompere un isolamento? Basta fargli attivare i protocolli di sicurezza e l'isolamento viene interrotto Insomma Qui ci vuole un bel incendio Beh I serbatoi del carburante con delle armi esplosive Struzza Allora Scusami Mi servi Vieni qua Ah non è andato abbastanza lontano Uh aspetta Vai e mangialo Ecco fatto E arma esplosiva tra l'altro Aspetta Aspetta Ecco qua Perfetto Ecco qua Ah fermo Credo che La missione sia già A posto Però Visto che Ci tocca Ecco fatto Vieni che te lo mangi Vieni che te lo mangi Bravissimo E che cosa ci otteniamo? Non ho visto Non ho visto Trofeo Catena alimentare Uh gli artigli Perfetto E allora Artigliamo Perfetto Dov'è l'ultimo Dov'è l'ultimo 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 Stata Cluj Eh Dobbiamo portare Dobbiamo fare Dobbiamo dire Fermo Eh ti sta bene Cretino Ecco qua Cacchio Liberati Perfetto Ok no Il soldato è morto Perfetto I pesci piccoli Non ci sono più Quello grosso È andato Anche il mitra Non ci dà più fastidio Dovrebbe Uccidere tutte le forze Aspetta Tagliato a metà Ne manca solo uno Dove sei? Dove cacchio è? Ah eccolo Nascosto benissimo lui Bravo Cos'altro devo fare? No Il mio lanciarazzi Non ti preoccupi Presto arriverà in un luogo sicuro Una porca Sì che Mi aspettavo usasse il tizio Con la bomba zacca E lo lanciasse Aiuto Allora fermo un attimo Prendi fucile C'è troppa luce Dio mio Eh arriva Arriva Eh ci sono Britta stronza Eccomi qua Muori Oh Fermo Mi serve Leva Zita lì Cretino Si lo so che Usare Il fucile È il modo Meno efficace Ma già che ce l'abbiamo Lo sprechiamo No Sono Ecco qua Un po' di danni Gratuiti Ecco fatto Una porca Trasformati Bravo Fermo lì Fermo Devo mangiare Ecco fatto Grazie Prima di evocare I miei lupetti Eh ti stai Distanguando Prima di evocare I miei lupetti Voglio vedere se arriva Altra gente Più forte ovviamente Non Ste mezze cartine Ecco appunto Bravi ragazzi Fermo lì Ecco fatto È arrivato quello grosso Uccidete Uccidete quello lì Fermo Che ora ti mangio Perfetto Ora ho bisogno Della frusta Uh fermo Vai 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 Prendilo Ah è già morto Benissimo Bravi miei lupetti Bravissimi Molto efficaci Tra l'altro Ecco fatto Il miglior attacco È sicuramente La difesa Esplosi Oh no Bell Sì La frusta Prenditelo al culo Ciasciu Ciasciu È una vecchia Youtube poop Quella che ho appena fatto Forse l'ha mandata a essere Sarà anche lei Alla caccia del Spyrock Allora Fermo un attimo Ho bisogno anch'io Dei miei tentacoli Che a quanto pare Sono diversi Dalla frusta Ecco qua Stronza Tu evo chi tuoi Io evo i miei Non vedo Non vedo Fermalo Mangialo Mangialo Eh vabbè Troppo tardi Fermali Non vedo Ora non sei così veloce Ecco fatto Prima che potesse evocare qualcuno Mangiatela Oh E finalmente Gli stacchiamo anche le gambine La frusta Acquisita Che era uno dei miei Potenziamenti preferiti Nel primo gioco Era in assoluto Uno dei miei Potenziamenti preferiti Quello Tieni premuto Premi quadrato Ecco fatto Alla fine i tentacoli E la frusta Sono più o meno uguali Cambia letteralmente poco 20 infetti Con una frusta Oh Minchia Che distanza Che si fa Porca miseria Ne ho avuto il tempo Ecco fatto Eh di che arma Vuoi che si tratti È una frusta No Già finita la missione Fan culo Allora Tieni premuto Premi cerchio Ah Che bello Che bello Io mi ricordavo Che stabilità Ce l'avevano i tentacoli Ma Finalmente Madonna mia Finalmente Abbiamo le previsioni Dei venti Sì signore Avere la frusta Vuol dire mangiare Anche con la distanza Con la terra Ferma satura Il grosso dell'eccedenza Dovrebbe disperdarsi All'arco Perdite Sterminio totale Degli infetti Circa un milione e mezzo Di non infetti Beh È accettabile Procediamo Sì si può fare Eh vabbè Così è la guerra No L'ultima risorsa Madonna mia Quanti punti esperienza Ste ultime missioni Le prime ci guadagnavamo Veramente Una sega Sì si può fare